Salve ragazzi, dopo aver visto il video di Catty Forever ho deciso anch'io di aderire al progetto del canale di Anubi il famoso sito dove poter recensire i libri della propria libreria virtuale mi trovate con il nick Sonia Sodano e qui mi metterò, qui, proprio qui, il link della mia libreria virtuale ecco, questa è la mia libreria, super super incasinata e nella quale non c'è più posto infatti ho altri libri sopra, da sistemare nell'ultimo posto in cui in pratica è possibile ancora mio nome è Sonia Sodano, da grande voglio fare la scrittrice, anche se qualcuno mi dice che in parte ci sono già riuscita perché ho pubblicato già due libri, ma io credo che la strada sia ancora molto molto in salita e comunque penso anche che l'importante è non demordere perché i propri sogni, se c'è grinta e c'è volontà, si possono realizzare oltre ad essere una scrittrice, sono anche una canita lettrice, la lettura per me è come respirare ho divorato, nel vero senso della parola, anche 5-6 libri al mese, leggendoli anche tutti insieme grazie alla lettura si riescono a compiere dei viaggi fantastici e secondo me leggere è importante perché aiuta la mente a guardare le cose anche sotto un altro aspetto aiuta tantissimo anche nella comunicazione verso gli altri e anche a capire le persone che ci sono intorno leggendo noi possiamo ampliare il nostro campo visivo ed emozionale soprattutto diventiamo più attenti e più risoluti anche sulle cose che facciamo insomma la lettura aiuta a riflettere e io credo che tutti dovrebbero leggere almeno un libro al mese e ci vediamo al prossimo video, ciao!